Peppe Andreozzi, un ritorno a casa si può dire, torni in provincia di Caserta dopo la buona esperienza in A2. Oggi ti è mancato solo il gollo, però grande intesa subito con i compagni. Sì, era già da due o tre settimane che mi stavo alleando con loro e mi sono già amalgamato bene. Io spero con gli allenamenti e con la massima concentrazione posso dare una buona mano a già un'ottima squadra che è la Sala Marcianese. Sì, era una partita durissima, l'abbiamo preparato bene in settimana, siamo entrati subito concentrati e terminati e se visto dal primo minuto la partita era in mano nostra. Io penso, se pensiamo allenamento per allenamento, partita dopo partite possiamo arrivare molto in alto. Sì, ti ripeto, pensiamo una per volta. Lunedì cominciamo a pensare al Monopoli, concentrate e terminate e dobbiamo migliorare fuori casa perché ho visto delle tre o quattro trasfette, i ragazzi hanno vinto solo una volta. Andiamo lì senza avere piedati nessuno e andiamo a vincere la partita decisiva. Per noi quella partita è decisiva. Grazie. Grazie. Grazie.